Siamo in cima al fronte Fallenor, 3123 metri, sopra Valls, a nord di San Bernardino in Terrei. Siamo in Fallenor, su Valls e il Tar. Siamo in fronte a noi vediamo Lenzor, il Kielkalporn, il Lorenzon e tutto il gruppo dell'Adula. Buona? E' difficile? Siamo in fronte a noi vediamo. Siamo in fronte a noi vediamo. Siamo in fronte a noi vediamo. Grazie a tutti.